Dal 13 al 16 luglio in Piazza Mercato si svolgerà la tradizionale festa del Carmine. Venerdì e sabato sarà rappresentata la vicenda di Masaniello che sulla piazza arringava il popolo. Di seguito avrà luogo la notte della Tammorra. Domenica sera il tradizionale incendio pirotecnico del Campanile. Al Palargine di Ponticelli è cominciata la rassegna estiva di cinema, teatro, musica e danza. Lunedì 16 sarà in scena lo spettacolo teatrale La Classe Argentina. Martedì 17 un concerto di Marcello Colasurdo. Un'insolita passeggiata fra cavità segrete e simboli esoterici nel giardino letterario di Babuc, presso la cappella di San Giovanni a Carbonara, e la proposta dell'associazione Cela Napoli per il pomeriggio di domenica 15. E sempre domenica 15 alle terme di Agnano, Raiss in concerto si esibirà dapprima coi Radicanto e poi coi vecchi compagni di Alma Megretta, con cui festeggia i vent'anni dello storico gruppo napoletano. La rassegna di cinema Accordi e Disaccordi al Parco del Poggio nella zona dei Colli Aminei, venerdì 13 presenta Cesare deve morire dei fratelli Taviani, orso d'oro al Festival di Berlino di quest'anno.